Penso che sono due giocatori fantastici. Lautaro non è un nome comune, ma penso che per me Lukaku è uno dei migliori che ci sono al mondo nel ruolo dei centravanti, perché c'è tutto. Mi dispiace quando segna perché da l'Inter, però sono contento per lui perché so che è una grande persona e mi piace, mi piace vederlo giocare, mi piace, sicuramente gli chiederò la male a lui per tenermela come ricordo, perché mi piace sempre giocare contro i grandi giocatori e sicuramente spero che non abbia una bella giornata, noi proveremo a fermarlo anche se è difficile, ma è un grandissimo giocatore sia lui che Lautaro, Lautaro è un po' più versatile, ma...